E sta andando alla grande, pieno di gente, allora velocemente due paroline su questa esperienza. Guarda, due paroline, uno, sono stanco, due, sono felicissimo, perché davvero ci abbiamo messo il cuore per organizzare questo evento, però i risultati sono davvero molto, molto incoraggianti. Bene, allora adesso partiamo un attimo dal tuo romanzo, super velocissimamente, Battiglione Blues, il tuo ultimo romanzo, sappiamo che ce n'è un altro che più avanti uscirà, però non anticipiamo niente. E Battiglione Blues, quanto è Sugar Pulp? Al 100% direi, Battiglione Blues si ispira proprio al manifesto Sugar Pulp, quindi territorio, quindi forza della scrittura, quindi ironia, quindi sarcasmo, quindi noir, quindi pulp, è davvero Sugar Pulp al 100%. Quindi adesso ci salutiamo con una promessa che ci sarà un nuovo evento Sugar Pulp l'anno prossimo. Vabbè, guarda, assolutamente, stiamo già pensando, non ti preoccupare, stiamo già pensando alla seconda edizione. Va bene, un saluto per Thriller Magazine. Grazie.